Lorenzo Cecchini, la Stemar Novata, c'è anche in gara 2, si spegne il Sogno Serie B, due tempi ottimi e poi la reazione della squadra donna di casa che è rimontato? Sì, beh, la squadra di casa ha deciso di panchinare i tre lunghi, sono andati con il campo apertissimo, quindi riuscivano a mantenere tiratori, giocatori uno contro uno, rimbalzi, quindi mentre aprivano il campo riuscivano allo stesso tempo a mantenere intensità difensiva, stazza fisica. Noi purtroppo non siamo stati altrettanto bravi a stare tranquilli, a fare due o tre difese come Dio comanda, a fare tre o quattro attacchi ordinati e arrivare dove dovevamo arrivare e purtroppo poi loro hanno preso fiducia e questo ci ha costato invece il perdere completamente l'inerzia. Quindi la sconfitta che fa male per come è arrivato dopo la lunga cavalcata, per cercare la Serie B? Sì, è una sconfitta che fa male perché eravamo a un passo, perché comunque abbiamo perso una gara 1 con dei regali enormi, siamo andati a giocarci una gara 2, siamo stati l'unica squadra di quelle che sono venute qua a andare sopra di venti. Quindi sinceramente la Serie B, quantomeno allungare la Serie secondo me in una delle due ce lo saremmo meritati, però se loro hanno vinto sono stati decisamente più bravi, quindi bravi loro e niente, ai miei non posso che ringraziarli comunque. Grazie.